ciao filosofi oggi ho fatto una piccola gita sono a besana in brianza esattamente qui si può trovare un ciliegio secolare sfortunatamente sono troppi in anticipo e l'ho trovato non fiorito però guardate che bellissimo boschetto che c'è nei pressi del ciliegio sembra uno di quei boschi fatati guardate che bello grazie a tutti 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 grazie a tutti